Musica Amici sportivi alla visione Immagini che vi giungono dallo stadio posto di Pratola Serra Quattordicesima giornata del campionato nazionale Primavera Team si affrontano i padroni di casa dell'Avellino E gli ospiti del Torino E' la prima gara del 2017 che si disputa qui a Pratola Serra Partiamo subito con la lettura delle distinte Partiamo dall'Avellino che ospita Che schierà tra i pali K numero 1, numero 2, turisco 3 per rotta 4 Crisci, 5 Rizzo, 6 Sgambati, 7 Dragone, 8 Branchi, 9 Cozzolino, 10 Arcillo, 11 Riccio In panchina Iusufi, Esposito, Perna, Barzaghi, Miranda, Saccavino, Caruso, Dapice, Pizzi, Ciotti, Desario e Garofalo Allenatore il signor Renato Cioffi Il Torino schiera Cucchietti tra i pali numero 1, numero 2 Trofanari, numero 3 Giraudo, numero 4 Auriletto, 5 Mele, 6 Fredalieb, 7 Traorè, 8 Rossetti, 9 De Luca, 10 Berardi, 11 Dalena In panchina Coppola, Buongiorno, Rivoira, Bortoletti, Luise, Ocadda, Gashi, Giussi e Dieye Allena il signor Federico Coppitelli Dirige il match Il pugnese Airoldi di Molfetta Coadiuato dai signori Spensieri di Genova E Perrotti di Campobasso Tutto pronto per l'inizio di questo match Nel corso di questi primi 45 minuti Lavellino, padrone di casa, attaccherà Dalla Destra alla sinistra Dei vostri teleschemi Percorso inverso Per la formazione Granata E dunque Prato-La Serra Si appressa a vivere un'altra giornata di grande calcio Un altro appuntamento prestigioso Dopo l'incontro di ottobre Contro la Juventus Arriva un'altra squadra prestigiosa Del calcio italiano Il Torino E dunque grande emozione sugli spalti dell'impianto Il Pino Non a caso Lavellino ha di fronte La squadra che vanta il maggior numero di scudetti A livello giovanile Dunque un settore giovanile Di tutto rispetto Quello Granata Ecco Lavellino che prova ad impensierire La squadra avversaria Ci ha provato branchi poi dalla distanza La conclusione di Crisci Nessun problema Per il portiere torinista Cucchietti L'appoggio di Cucchietti A beneficio del numero 6 Friendelieb Parla ancora per il 6 Granata Ora il capitano Auriletto Avellino e Torino Inserite nel Raggruppamento B Dunque partita di prestigio Quest'oggi a Prato la Serra Senza nulla togliere Alle altre squadre Del Raggruppamento B Sicuramente Juventus e Torino Sono le due squadre Che vantano Un certo blasone All'interno del girone B Del campionato nazionale Primavera team Trofeo Giacinto Facchetti Che quest'oggi Vede l'inizio Del girone Di ritorno All'andata Questa partita si disputò Nella cittadina di Ivrea Il Torino vinse per tre reti a zero Dalena Ha sventagliato in avanti Tofanari Si deve vedere con Perrotta Alla fine cerchi messa dal fondo Per l'Avellino Giornata fredda Quest'oggi A Prato la Serra Ma Tutto sommato Clima accettabile Molte partite Del campionato Primavera Sono state rinviate A causa del maltempo A causa della neve Che ha colpito Il centro sud E anche questa fetta D'Irpinia Gare dell'Under 17 Dell'Under 16 E dell'Under 15 Che verranno recuperate Auriletto Si rifugia In fallo laterale Siamo al quarto Del primo tempo Zero a zero Tra Avellino e Torino Perrotta con le mani L'appoggio Avvicinato per Crisci Non passa Crisci Altra rimessa laterale Per la formazione Bianco-Verde Che ha iniziato questa gara Con Discreto Piglio Lascia scorrere Sul fondo Tofanari Sul Colpo di tacco Di Riccio Rimessa dal fondo Pronto Cucchietti Appoggio per Il numero 6 Friendly Che dialoga con Giraudo Avanza Friendly Palla al piede Alza la testa Il lancio Di sinistro Di testa Va a colpire Un calciatore Torinista Libera la propria meta A campo Ma solo per un attimo L'Avellino Di testa In qualche modo Il numero 6 Sgambati Che esce a servire Per rotta Un po' in affano La formazione di casa In questo frangente La fine c'è Rimessa laterale Comunque per i campani La battuta subitanea L'anticipo di Friendly Su Riccio Rimessa laterale Ancora per l'Avellino Che guadagna metri E' pronto con le mani Todisco Todisco che consente Ai suoi compagni Di avanzare Nella metà campo avversaria La gittata In piena area Di rigore piemontese Con tutta tranquillità Cucchietti Fa su il pallone E si appresta Al passaggio corto A beneficio Del solito Friendly Mele Auriletto Il capitano Del Torino Torino che è la terza forza Del campionato E a quota 28 punti Lo precedono La Juventus Con 31 Campione d'inverno E il Chievo Con 30 Altro lancio In avanti Colpisce di testa Rizzo Siamo nella metà campo Ecco D'Alena Sulla destra Berardi La concursione Di interno La giro Di Berardi Calcio di rigore Per il Torino Genuo fallo Di K Sull'avversario Calcio di rigore Per Il Torino Quando siamo giunti Al minuto Numero 6 Del Primo tempo Calcio di rigore Per il Torino Sarà D'Alena Ad andare Dal dischetto In genuità di K Che ha Atterrato L'avversario Il Torino L'opportunità Di passare In vantaggio Parte D'Alena Gol Arriva anche Intuito Il Torino È in vantaggio Dopo 6 minuti La rete Di Dalena Su calcio Di rigore La formazione Ospite Ha già sbloccato Il risultato E dunque Averino 0 Torino 1 Gara subito In salita Per la formazione Di casa Peccato Perché Sembrava Un'azione Persa Sul nulla Ed invece C'è stato L'episodio Del calcio Di rigore Che fa pendere L'ago della bilancia Dalla parte Del Torino La rimessa dal fondo Per il Granata Frendlieb Augiletto D'Alena Toffanari Toffanari Anzi Mele Chiedo scusa La corsa Di De Luca Stavolta è lui A commettere Fallo De Luca De Luca Che è stato Atterrato Da K E il placcaggio Del portiere Ha indotto Il direttore Di gara Che ricordiamo Le signore Oldi Di Morfette Ad assegnare Il calcio Di rigore Che consente Al Torino Di essere Avanti All'Avellino In questi Primi Otto minuti Di partita Recupera la palla Mere nel cerchio Di centrocampo Insiste la formazione Granata con Berardi Ancora Berardi Temporeggia Arretra Preferisce Rifugiarsi In Giraudo Si riparte Da Cucchietti Augiletto Ancina avanti Di Augiletto Ancora il Torino Sempre Berardi A lungo di Traore Il cross Di Traore La palla Che attraversa Tutta l'area di rigore Senza che nessun calciatore Granata intervenga Può ripartire Lavellino Con il numero 7 Dragone C'è la scocrettezza Di De Luca Calcio di punizione Per Lavellino Che è sotto di un gol Crisci Todisco Palla ancora per Crisci Perde palla Crisci genuamente Ma c'è fallo C'era stato il pressing Di Rossetti Sulla Vellinese Intervento dell'abito Che è giunto Con qualche Millesimo di secondo Di ritardo Il lancio in avanti Di Rizzo L'uscita sicura Puntuale Di Cucchietti Padrone assoluto Dell'area Riparte il Torino Mele Friendly Ebb Difetti Friendly ebb Può essere tra ore Che non riesce A controllare Il pallone Efficace contrasto Dito disco Sul calciatore Di colore Del Torino Rimessa laterale Per Lavellino Ecco la battuta Con le mani Capitan Cozzolino Che vince il duello Con Giraudo Ma l'ultimo tocco È suo Dunque la rimessa laterale È da pannaggio Della formazione ospite Auriletto Avanza il capitano Del Torino Cambio gioco Dall'altra parte A beneficio di Traoré Ha letto bene La diagonale Todisco Ma ancora Traoré Che non riesce A calciare Di destro Per l'intervento Di un avversario Ora prova A distendersi La formazione Di Cioffi La corsa Di Riccio Sull'auto Di destra Si accentra Riccio Cozzolino Viene colto In controtempo Sbaglia anche Il Torino Però C'è un po' Di confusione Sul rettangolo Di gioco Alla fine C'è rimessa laterale Per Lavellino Con le mani E' pronto Perrotta Si avvicina Crisci Ancora Perrotta Si lotta Nei pressi Della linea Del faro laterale Prova a crossare Subito Dragone Palla Che spinta Però Sotto l'avversario Non è un granché Ci ha rimessa Ancora Per Lavellino Perrotta Crisci Ha letto La traiettoria Del pallone Benissimo Traoré Che si invola Sulla fascia sinistra Ancora Traoré Prova a mettere Alla centro Ma c'è l'intervento Di Gizzo In chiusura Messa laterale Per il Torino Stavolta Dodicesimo Del primo tempo Lavellino 0 Torino 1 Decide Dalena Al sesto Sul calcio di rigore Resta insomma D'attacco La formazione Granata Altra rimessa Con le mani La batterà L'autore del gol Proprio Dalena No c'è calcio d'angolo Chiediamo scusa C'è calcio d'angolo No rimessa laterale L'abbiamo visto bene C'è un po' di passi In questo momento C'è rimessa laterale Per il Torino Questo è assodato E' pronto con le mani Il numero 3 Giraudo Movimento dei calciatori La palla per Trore Stradeditono Per Giraudo Che non riesce a crossare Chiuso in sandwich Giraudo Ecco Lavellino Con Arciello Avanza Arciello E' circondato da Granata Però l'appoggio Per Cozzolino Buona idea Cozzolino Riesce a venire via All'avversario Mantiene pala Poi però non riesce Nel passaggio All'accompagno Lavellino Che però insiste Rute intervento Di Branchi Sull'avversario Calcio di punizione Per la formazione Piemontese Ecco la battuta Del calcio di punizione Ecco Aguiletto Friendly Giraudo Lancia in avanti Di Giraudo Lo scatto di Traore Traore ancora al centro Il destro Di De Luca Devi in corner K Occasione gol Per il Torino La velocità Di Traore Sta creando Più di qualche Grattacapo A Todisco E a Rizzo Che va a raddoppio Per aiutare Per dare manforti Al compagno La conclusione Di De Luca La deviazione in corner Di K Al quattordicesimo Del primo tempo Calcio d'angolo Per il Torino Ecco la battuta Del corner Tra l'attoria bassa Quasi uno schema Berardi Di Sinistro Palla alta È rimasto a terra Intanto un calciatore Granata Il direttore di Gagas Se ne avvede Ed intercompe il gioco È il calciatore Che ha scoccato Il sinistro Qualche secondo fa Berardi A rimanere infortunato Si è fatto male da solo Non abbiamo visto nessun contrasto Con l'avversario Si rialza Berardi Seppur claudicante Si può riprendere a giocare Il pressing del Torino Sgambati Si vede Il pallone intercettato Dal numero 6 Friendlab Tofanari Auriletto Con calma il Torino Friendlab Giraudo Traore Gli sottrae il pallone Il numero 9 Cozzolino La presa di Cucchietti Mele Dalena Auriletto Rossetti Lancio Per sfruttare La velocità Di Traore Alla fine Il calciatore Di Colore Commette fallo Sul Rizzo Calcio di punizione Per l'Avellino La palla comunque Era sfilata sul fondo K È pronto Alla battuta Del piazzato Rizzo La leggerezza Di Tofanari Per poco Non ne approfitta Arcello Rimedia Il Torino Cucchietti Auriletto Friendlab Ancora capitano Auriletto Temporeggia Alla fine Se rinnova Il dialogo Con Friendlab Giraudo Spazi Chiusi Il lancio Per Rossetti Ultimo tocco È Di Ricci Altro tiro Dalla bandierina Per il Torino La squadra Che è nata L'opportunità Di Rifarsi Pericolosa Dalla bandierina D'Alena Con la battuta Del calcio Piazzato Stavolta La palla È in Piena aria Ma In piena aria Piccola Traiettoria Alta per tutti Nessuno ci arriva Alla fine C'è rimessa Con le mani Per Lavellino La battuta Di Perrotta Ha intercettato Dofanari L'uscita Di K Nei paraggi C'era De Luca Rizzo Lo ha inseguito De Luca Ancora Torino Rizzo A spazzare via La sfida Che si alza Campaniche Di testa Friendlab Palla ricacciata In avanti Giraudo Non riesce A colpire di testa E a servire Cucchietti Non sarei sentita Di rischiare Il numero tre Granata Si continua a giocare Proprio Giraudo Rizzo Riallontana Ora Mele Altro lancio Per la posizione Regolare Di De Luca Che ha provato Quasi il colpo Dello Scorpione Non c'è riuscito Rimessa Laterale Per Lavellino Scaltro Giraudo Nel far carambolare Il pallone Sul corpo Dell'avversario E a guadagnare Una rimessa Con le mani C'è tutto sommato Equilibrio In mezzo al campo Lavellino Rispetto dello Svantaggio Sta comunque Tenendo testa Gli avversari Rimessa con le mani Per la formazione Campana Riccio Rimessa Ancora Biancoverde Sempre Todisco Con le mani Ancora Todisco L'intervento Di Rossetti In scivolatra Resta in zona D'attacco Lavellino Altro giro Altro faro Laterale Allontana Di testa Friandleb Forte La sua statura Altra rimessa Per Lavellino Cozzolino Todisco Il cross In aria Anticipato Cucchietti Da un compagno Di all'uscita Dalla lunga distanza Ha provato La conclusione Per Rotta Sinistro Senza pretese Da parte del numero Tre Di Cioffi Bisogna ripetere La rimessa Dal fondo Cucchietti Abbattuto Con la palla In movimento Riparte dunque Il Torino Friandleb Auriletto Ancora Auriletto Rossetti Altro lancio Per De Luca Cioè fuori gioco Ma la manovra Di Granata Sembra Prestabilita Il lancio In avanti A sfruttare La velocità Delle punte Finora Fino attento Lavellino Arciello In via con il numero All'avversario Anche se Mele Rimane al tappeto Dolorante Si rialza Mele Un'occhiataccia All'arbitro Da parte del numero 5 del Torino Si è continuato Comunque a giocare Il colpo di Nuca Di Riccio Arciello Perde palla Nel contrasto Con Tofanari Che avanza Porta palla Tofanari Sulla sinistra Servito Traore Ancora Traore Serve Dalena Cambia gioco Benissimo Sulla destra Per Berardi Avanza Berardi Viene affrontato Da perrotta Palla Indietro Per Tofanari Il traversone Di Da esso Di Trofanari Allontana Todisco Di testa Che se Poteva far meglio Il numero Due Della Vellino Non era Pressato Rimessa Laterale Per la formazione Padrona Di casa Che sotto Di un gol Decide Il calcio Di rigore Trasformato Dal Toginista Dalena Al sesto Del primo Tempo Per l'1-0 Del Torino Sul campo Dell'Avellino Sgambettato Proprio Dalena Calcio Di punizione Per la squadra Granata In piena In piena corsa Per l'accesso Diretto Alle Final AIDS Auriletto Auriletto Dalena Palla per Berardi Si gira Berardi Conclusione di sinistro Debole Da dimenticare Da parte del numero Dieci Di mister Coppitelli Cappa Si appresta La rimessa Dal Fondo Siamo quasi Al venticinquesimo Del primo Tempo Sempre 1-0 Per il Torino Il ripiegamento Di Perrotta A beneficio Del proprio Portiere Rizzo Todisco Supra in velocità L'avversario Poi viene messo giù In maniera Dura Dall'avversario Calcio di punizione Per il Team Campano Il falo Era stato commesso D'Amele Che ha rischiato Il giallo Sinora nessuno Ammunito Gara sostanzialmente Corretta Traore e Rubapalla Se l'allunga Favorendo L'intervento Di Gizzo Che cambia Gioca A beneficio Di Arcello Vediamo se Inventa qualcosa Il calciatore Di maggior talento Della formazione Campana Messa laterale Per l'Avellino Su di lui Ha fatto buona guardia Tofanari Dragone Si interstardisce Nel dibling Dragone Va giù Berardi Tutto regolare Il rimprovero Dell'arbitro All'indirizzo Del numero 10 Che continua A discutere Con Berardi La girata Improvvisa Di Dragone Di testa Crisci Tofanari Tofanari Ha intercettato Avanza Per rotta In qualche modo Riesce A non far Innescare Berardi Avellino Perde palla Ecco Mele Dalena Berardi La seconda posizione Di Tofanari Porta palla Berardi Ignorato Tofanari Ancora Berardi Riviene Sulla sfera Il Numero 5 Mele Ultimo tocco Di Arciello Rimessa laterale Per il Toro Ancora Mele Ha un po' Di spazio Friendly Sulla sinistra C'è Gilaudo Il pressing Di Cozzolino Rimessa laterale Per la formazione Ospite Ecco Gilaudo Anzi Friendly Tico scusa Auriletto Mele Acceno di lancio lungo Poi esce a servire In verticale Berardi Fermato Da per rotta La rimessa laterale Bianco verde Va giù Sul fallo Di Tofanari Il numero 11 Riccio Calcio di punizione Per Lavellino Sarà per rotta Batterella Piazzato Palla all'indietro Per Sgambati Sulla destra C'è Rizzo Crisci Dragone Non riesce Non riesce nel controllo Cozzolino Alla fine però Il pressing Irpino E' efficace C'è rimessa laterale Per la squadra Bianco verde Smorzato Smorzato il tentativo Traore Traore In velocità Bruciato K Proteso In tuffo E' raddoppiato Per il Torino Una serie di passaggi Letali Per la formazione Di casa 2 a 0 Torino Al 26esimo Irgadoppio Grifato Traore Si riparte dunque Con la forza dell'orgoglio Lavellino Dragone Prova a cambiare gioco Di testa Cozzolino Che però Non riesce a servire Nessun compagno Rai Solato Il capitano Bianco verde Tofanari Dalena C'è il fallo Di Cozzolino Ai suoi danni Calcio di punizione Per la formazione Piemontese Friendlib Mele Dalena Auriletto Lancio di Friendlib Di testa Perrotta Calcio di punizione Per l'Avellino Perrotta Sul punto di battuta Calcio di punizione Batuta in maniera Un po' troppo violenta Da Da Kappa Che ha sorpreso Il compagno Una serie di impalli Che alla fine Favoriscono il numero Quattro Crisci Che viene Messo al tappeto Pratialmente Bisogna Rifare il tutto Calcio di punizione Battuta in maniera Irregolare Perrotta Pallo intercettata Da Dalena Di Luca Prova a controllare Il pallone L'intervento su di lui Di Rizzo Poi Kappa Riesce Ad Evitare il corner Giudicato Involontario Il retropassaggio Di Rizzo Al proprio portiere Ecco Sgambati Perrotta Nascino avanti Del numero tre Intervento di Auriletto Sul riccio Rimessa laterale Per l'Avellino Che ora Soccombe Per due reti a zero Ha raddoppiato Traore Al ventiseiesimo Sul passaggio La sotterra Dalla destra Di Tofanari Dragone Il palleggio Del numero sette L'appoggio Per Perrotta Il cross In pienaria Fetta di testa Friandlaib Indisturbato Una serie di contrasti In un fazzoletto Di campo Dragone Vuole lo scatto Di Perrotta Fa buona guardia Tofanari Che protegge Il pallone Facendolo fuori uscire Rimessa dal fondo Per il Torino Scocca la mezz'ora In questo momento Perlino zero Torino due Match valido Per la quattordicesima giornata Del campionato Nazionale Primavera Team Trofeo Giocinto Facchetti Raggruppamento B Prima giornata di ritorno Della stagione regolare Mele Va giù Berardi Tutto regolare Ecco Dragone Avanza per vie Oggi zontali Dragone Un po' sconsolato Non ha assistenza Nel numero 7 Per lui c'è il rizzo Per lui c'è il rizzo Ora sgambati Lancia in avanti Di sgambati Tofanari Con calma Appoggia Per Rossetti Voleva Tra ore Trofanari È stato impreciso L'uscita di Cucchietti Appoggio per Friendly Mele Altro lancio Di Mele Ancora cercare Tra ore Intervento Dito disco Attento Rizzo Intercetta Mele Per il Torino Recupera la palla Però la squadra di casa Perrotta Prova ad accelerare Sulla sinistra Sulla sfera Non arriva Arciello Tofanari È impeccabile Ed è anche Furbo Nel guadagnare Un calcio di punizione Calcio di punizione dunque Per la squadra ospite Per fallo di Arciello Su Tofanari Sarà l'estremo difensore Granata Cucchietti A battere il piazzato Ecco il destro Di Cucchietti Di testa Sgambati Rilancio Dito disco Dragone di testa Perrotta Arciello Mi invia stavolta A Tofanari Tofanari Rivene su di lui Si impegna Per salvare Il Pallone E ci riesce Tofanari Però Cucchietti Non vuole Correre rischi E spedisce il pallone In tribuna Rimessa laterale Per Lavellino Occorre un altro pallone Eccolo che arriva Perrotta L'abbattuta Con le mani Palla Pega Arciello Lotta Luca Appoggio intelligente Per Traoré E libero Riceve Berardi Sulla destra Però il pallone Si rivela Troppo corto Consentendo il recupero Di difensori Biancoverdi Traoré Riesce di intercettare Il passaggio di Dragugna Di involarsi Traoré La piazza Con il sinistro Conclusione Casotega Debole E' bastato Adagiarsi A Cappa Per far su Il pallone Riparte Lavellino Mele Anzi Chiedo scusa Rizzo Arciello Non riesce A salvare Il pallone Ci sarà rimessa Laterale Per il Torino Pronto Tofanari Con le mani Sta per scoccare Il trentacinquesimo Due a zero Per il Torino De Luca Mele Giraudo Friendly Arieb Auriletto Una serie di passaggi In orizzontale Mister Coppitelli Invita i suoi Ad affondare A premere Sull'acceleratore Auriletto Lancia in avanti Di Auriletto Svetta Todisco Poi Branchi Rossetti Per il Torino Lotta con Branchi Ancora Rossetti Alla fine Guadagna Un calcio d'angolo Si avvicina La bandierina Il numero 11 Dalena Autore Del gol Del gol del momentaneo 1-0 Per il Torino La battuta Di Dalena Fallo In zona D'attacco Calcio di punizione Per l'Avellino Il gol Il gol su calcio di vigore Di Dalena Qui ha fatto seguito Il raddoppio Di tre ore Al ventiseesimo 20 minuti più tardi La battuta Di K Fallo Di Friendly Su Cozzolino Calcio di punizione Per l'Avellino Non è convinto Friendly Dell'intervento Dell'arbitro Calcio di punizione Per la formazione Di casa Che vuole dimezzare Lo svantaggio E riaprire In qualche modo La contesa Battuta Del calcio Piazzato Per rotta Prova Spaccata Di arrivare Sul pallone Davvero difficile Impattare In quella circostanza Parla direttamente Sul fondo Ci sarà rimessa Dunque Per la formazione Cara Al presidente Urbano Cairo Ecco il Torino Con capitano Auriletto Mele Friendlyb Giraudo Friendlyb Attende Lavellino Auriletto La formazione Di Cioffi Sicuramente In questo primo tempo Non ha Lesinato L'impegno Sarà giocata A viso A viso A viso E a nostro Avviso Il 2-0 È anche un po' Severo Che il Torino Fosse Una formazione Di caratura Superiore Lo si sapeva Però non è che abbia Per così dire Schiacciato Ecco gli avversari Con la sommola Di gioco Torisco A volte ovviamente La qualità Del singolo Fa la differenza E lo si sta vedendo Rimessa Per la formazione Granata Friendlyb Auriletto Ancora Friendlyb Mele Si sgancia Giraudo La pallava Proprio per lui Ha capito tutto Però Un difensore Biancoverde Ma ancora Il Torino Insiste Con Mele Belardi Il pallone Non filtra Dalena Appoggio Sulla sinistra Per Giraudo Il dribbling Di Giraudo Anzi Chiedo scusa Trattavasi Di Rossetti Cioè Rimessa laterale Comunque Per il Torino Eccolo Giraudo A battere Il faro Laterale Palla ancora Per Rossetti Che vuole Crossare Ci riesce In qualche modo Non riesce A staccare De Luca Ben contratto Dall'avversario Rimessa laterale Per Lavellino Era comunque potente Forte Il traversone Di Rossetti Riccio Perrotta Lancia in avanti Di Perrotta La spizzata di testa Di Friand Leib Che mette un po' In difficoltà Giraudo Giraudo Non riesce A rilanciare Poi Rinviene Friand Leib Arriscato Su quel colpo Di testa All'indietro Poteva Involontariamente Innescare L'avversario Buon per lui Che c'era Giraudo Alle sue spalle Augiletto Con Berardi Avanza Palla al piede Berardi Serve Rossetti Il cross Di Rossetti Palla direttamente Tra le braccia Di K Riparte Lavellino Con Perrotta Cinque minuti Più eventuale Recupero Alla fine Del primo tempo Sbaglia Lavellino Dalena Per il Torino Allontana Rizzo Fallo Di Capitana Augiletto Chiamo Verbale Per il numero 4 Del Torino Riscato Il giallo Intanto Il signor Airoldi Invita Alla calma Augiletto E il riccio Le raccomandazioni Del direttore Di Gara All'indirizzo Dei due calciatori Ora deve stare attento Augiletto Perché Con il richiamo Verbale Di solito Un calciatore Si ritrova Nel miglino Del direttore Di Gara Traore Si avventura Nel dribbling E ci riesce Sull'avversario Ma insiste Lavellino Crisci Il cross Dito Disco La palla Che si perde Sul fondo Augiletto Fiendleb Dalena Il virtuosismo Di Dalena Ora Mele Dalena Mele Giraudo Ultimo tocco Di Branchi Messa laterale Per il Torino Quando siamo giunti Al minuto numero 41 Del primo tempo Torino conduce Per Dovete a zero Sull'Avellino Qui a Prato la Serra Tofanali L'intervento Di Iperrotta Efficace Sul numero Due Granata Arciello Lo scambio Con Riccio Arciello Lo scatto Di Capitan Cossolino Che è in posizione Regolare La palla Rimane buona Anzi no Intanto c'è un cambio Tra le figlie Bellino S'arrende Crisci Al suo posto Il numero 21 Ciotti Non ha atteso L'intervallo Cioffi Per effettuare Il cambio Ha subito Gettato Nella mischia Ciotti Evidentemente Crisci Non riusciva A correre A continuare A calciare Non vogliamo Pensare Ad una Ad un cambio Tecnico Ecco Augiletto Friandleib Giraudo Con tutta calma Il Torino Avanti di due reti Augiletto Dalena Apri il gioco Per Traore Che vi invia L'avversario Poi Todisco Ci mette Una pezza E in qualche modo Evita il corner L'ultimo tocco È stato di Traore Che non è sfuggito Agli occhi Dell'arbitro Rimessa dal fondo Per l'Avellino Il rilancio Di K Svetta Capitan Cozzolino L'uscita Di Cucchietti Ha potetto La sortita Del suo portiere Friandleib Riparte il Torino Con Giraudo De Luca È solo Alza la testa Ragiona L'attaccante Del Torino Friandleib Dalena Augiletto Altro lancio lungo Aspizzata Di De Luca Per Traore Calcio d'angolo Per il Torino Traore Aveva Provato A restituire Palla al compagno Si sono chiuse Le maglie Dell'Avellino C'è comunque Corner Per la formazione Ospite Sempre Dalena La bandierina L'uscita Di K Carica Sul portiere Era terminato Giù pure Rizzo Calcio di punizione Per l'Avellino Sfuma Quest'opportunità Per il team Granata K All'ennesimo Rilancio Di testa Friandleib Per rotta Pure Svetta Rimessa Laterale Per la formazione Campana Per gotta Sbaglia La portata Del passaggio Il fallo Di Sgambati Su De Luca Calcio di punizione Per il Torino Siamo in chiusura Di frazione Siamo entrati Nella fase Di recupero Pronto Dalena Abbatte Il calcio Di punizione Probabile che vi sia La gittata In area di rigore E così Il destro Di Dalena Palla Spazzata Via Il palleggio Di Riccio Si ferma Riccio E affrontato Da Uriletto Altro richiamo Verbale Per il capitano Torinista Che Ha riscato il giallo Anche in questa circostanza Piuttosto magnanimo Il signor Airoldi Di Molfette Sinora Non ha estratto Nessun cartellino Né Ai danni Dell'una Che dell'altra squadra Ecco il Torino Con Traoré Di testa Rizzo Perde palla Ne approfitta De Luca In area De Luca Il sinistro Di De Luca La respinta Di Kapp E poi Sbaglia Berardi In scivolata Occasione gol Per il Torino Rimasto Al tappeto Rizzo Che nel tentativo Di controllo Ha perso Palla De Luca Gli era sottratta Si è involato A calcio Di sinistro Attaccante Granata Ha trovato La respinta Di Kapp Poi Sulla ribattura Del portiere Campano Berardi In corsa Non è riuscito A centrare Allo specchio Della porta Torino Vicino al gol Del 3 a 0 Il palleggio Il sombrero Il sombrero Di Arcello Dragone Rossetti Prova a contrastare L'alto numero 8 Branchi Il duplice fisco Del signor Airoldi Di Molfetta Si va Negli spogliatori Con il Torino In vantaggio Per Due reti a 0 Al termine Del Primo Tempo Decidono Le reti Di Dalena Al sesto Sul calcio di rigore E di Traorè Al ventiseiesimo A risentirci Per il commento Del secondo tempo Amici sportivi Della visione Ancora immagini Dal campo sportivo Posto Di Prato La Serra Sta per iniziare Il secondo tempo Della partita Di calcio Avellino Torino Valevole Per la Quattordicesima giornata Del campionato Nazionale Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti La concursione Della distanza La numero 11 Del Torino D'Alena Abbastanza insidiosa Perché abbiamo Interrotto In un certo senso Il pensiero Introduttivo Diciamo Secondo tempo Della sfida Avellino Torino Qui a Prato La Serra Il Primo tempo Si è chiuso Con il Torino In vantaggio Per due reti A 0 Passiamo subito Alla rilettura Delle distanze Partiamo dall'Avellino Che schiera K tra i pali Numero 1 Numero 2 Todisco 3 per Gotta Il numero 4 Era Crisci E' stato sostituito A fine primo tempo Per esattezza Al 41esimo Daciotti Maglia numero 21 Poi il numero 5 Rizzo 6 Sgambati 7 Dragone 8 Branchi 9 Cozzolino 10 Arcello 11 Riccio In panchina Iusufi Esposito Perna Barzaghi Miranda Saccavino Caruso Dapice Pizzi Desarlo E Garofalo Seguiamo Lavellino Poi Vi leggeremo La distinta Granata Il sinistro Di Pergotta Che è spinto Dalla difesa Granata Allenatore Dallavellino Signor Renato Cioffi La discesa Di Insistita Di Berardi Il cross Di Tofanari Di Testa Svetta Todisco Conclusione Ciabattata Di Giraudo Traore Non riesce Con il petto Ad adomesticare Il pallone Alla fine Fiendlieb Svedisce la sfera In faulaterale Il torino dunque Cucchietti Tra i pali Numero 1 Numero 2 Tofanari 3 Giraudo 4 Auriletto 5 Mele 6 Fiendlieb 7 Traore 8 Rossetti 9 De Luca 10 Berardi 11 Dalena La discesa Di Traore L'appoggio Per il numero 10 Berardi L'appoggio Ancora Sulla destra Per Tofanari Palla respinta Ancora Tofanari Autore dell'assist Beneficio di Traore Che ha fruttato La seconda rete Del Torino Il cross Ma la palla È già uscita Era intervenuto De Luca Sul secondo palo La palla Però Ha già Varcato La linea di fondo Il gioco è stato Subito arrestato Sgambati Qualche rischio L'uscita Di Icappa In panchina Per la squadra Granata Siedono Coppola Buongiorno Rivoira Bortoletti Luise Ocadda Gasci Giussi E Dieye Allena Federico Coppitelli La terna arbitrale È composta Delle signore Eroldi Di Molfetta Che è l'arbitro Poi Spensieri Di Genova E Perrotti Di Campobasso Sono i collaboratori Il match è iniziato Da tre minuti Sempre due a zero Per il Torino Messa con le mani Per la squadra Di casa Intanto Ci sono i primi movimenti Anche Sulla panchina Granata Anche se in verità C'è anche il freddo Da Combattere Da sopportare Lo stretching È il miglior metodo Per chi Non è Sul rettangolo Di gioco Aria gelida Quest'oggi A Prato la sera Il clima Risente ancora Del maltempo Di giorni scorsi La neve Nelle ultime settimane Non ha consentito La disputa Di altre partite Delle giovaniche Dell'Avellino Qui A Prato la sera Gare che Nell'anno del 17 Nell'anno del 16 Nell'anno del 15 Che saranno recuperate Nel corso Delle prossime settimane Maltempo ha concesso Una sorta di tregua Consentendo Secondo un altro La praticabilità Dei luoghi E la disputa Di questa partita Gioco interrotto Calcio di punizione Per la formazione Di casa Cappa protagonista Nel finale di frazione Sulla conclusione ravvicinata De Luca Per rotta Intanto Si accendono i riflettori In qualche modo In qualche modo Allontanare Giraudo Lo scatto di De Luca Deve vedersela con Rizzo Rimessa Con le mani Per il Torino E' pronto Giraudo Traore Gli sfugge il pallone In avanti La ributta Todisco Cioè Fiendleb Per il Torino Di testa De Luca Palla per Cappa La temperatura Sta iniziando A calare sensibilmente Rilancio Di Cappa E Coriccio Va giù Il numero 11 Bianco Verde Sull'intervento Di Rossetti E calcio di punizione Per l'Avellino Vuole svilettire I tempi La formazione Bianco Verde Vuole rientrare In partita L'obiettivo Pioghitario E' Dimezzare Lo svantaggio Riccio Riccio Sul pallone Siamo al settimo Della ripresa Si attende il fischio Del direttore Del direttore di gara Parte Lavellinese Riccio Palla Giro La presa facile Di Cucchietti E' un problema Per l'estremo Difensore Granata Che Sinora Ha vissuto Un match Un match Abbastanza tranquillo Non si registrano Era nettamente Al di fuori Della sua portata Giraudo di testa La gira ancora Mele Rossetti Berardi Lo scatto Di Traore L'uscita Di K Che ha letto bene I tempi Della sortita Altro lancio in avanti Dito disco Il fallo di Auriletto E scatta il giallo Per il capitano Granata Avevamo Previsto Aveva già subito Più di un richiamo Verbale Auriletto Stavolta il direttore Di gara Non ha potuto esimersi Dalle strade Il cartellino giallo Il primo munito Del match Il numero 4 Del Torino Gara sostanzialmente Corretta Non ci sono in campo Particolari tensioni Dunque Primo munito Del match Ed il provvedimento Di scivinare Dell'arbitro Pugliese Cade Al minuto numero 9 Del secondo tempo Opportunità Per la formazione Di Cioffi Arciello E Riccio Col pallone A metà strada Tra i due Lì Sarebbe l'ideale Per un Calciare Per un Sinistro Però Vediamo Quale sarà La soluzione Qual è la soluzione Adottata Dall'Avellino Parte Riccio Di sinistro Palla alta Sarà Abbia con se stesso Riccio Ed intanto L'Avellino Si appresta Al secondo cambio Fuori Capitan Cozzolino Al suo posto Il numero 20 Pizzi La fascia Di capitano Sull'avambraccio Di sgambati Già due campi Effettuati Da Cioffi Esce Traore Per il Torino Cambio anche Tra le fila Piemontesi Tra i migliori Traore Al suo posto Il numero 19 Giussi Si appresta Al rilancio Cucchietti Il gioco Riprende Dopo La doppia Sostituzione Effettuata Dall'allenatori Gici A 5 secondi Dalla sua Entrata in campo Sfiora il gol Del 3 a 0 Ma Il numero 19 Era in posizione Di offside Calcio di punizione Per l'Avellino Sarebbe stato Tutto inutile Se il numero 19 Avesse insaccato Il pallone A pochissimi secondi Dalla sua Entrata in campo Calcio di punizione Per il Torino Abbattere Friendly Appoggio per Auriletto In testa colpisce Torisco Giraudo La sfera ancora Che salza Campanile Rizzo Respinta Debole Torino Che rimane In zona D'attacco Ecco Giraudo Assediato Rossetti Invia Rossetti Sguscia Corabita Cicca Il pallone Il miracolo Intanto di K Sulla conclusione Di Dalena Di Dalena Aveva ciccato Il pallone Altro calcio di rigore Per il Torino Fallo di mani In piena area Secondo rigore Per il Torino Si era salvato Per ben due volte Lavellino Nella circostanza De Luca Aveva ciccato Il pallone Sulla conclusione Di Dalena Più di un miracolo K Adesso c'è il calcio di rigore Per il Torino Che può portarsi Sul 3 a 0 Lo batterà De Luca Che se no Non è riuscito A segnare È il minuto Numero 13 Della ripresa De Luca Contro K Parte Il numero 9 Granata Il destro Gol Spiazzato K Esecuzione Impeccabile Dell'attaccante Del Torino 3 a 0 Per la formazione Piemontese Triplica De Luca 3 a 0 Per la squadra Granata Rizzo Sgambati Tofanari La serie degli impalli Rizzo Palleggio di Giusci Ancora Giusci Anticipato Berardi Lo scatto di Perrotta Ci sarà giallo Per il Numero 19 Giusci Che ha trattenuto Lettamente Perrotta Che stava Accelerando Sulla fascia Sinistra Secondo giallo Del match Entrambi Ai danni Dei calciatori Del Torino Giusci Va a fare Compagnia Nell'elenco Dei cattivi A Daugiletto Calcio di punizione Per l'Avellino Cioffi Impartisce Disposizione I suoi Invita La sua squadra A non mollare La presa Ad affrontare Il match Con il massimo Impegno Sino al Novantesimo Si perde Sul fondo Il calcio di punizione Battuto Da Dragone Messa da fondo Per il Torino Che sta conducendo Ora per tre reti A zero Sul Lavellino Due calci Di rigore Trasformati Rispettivamente Da Dalena E De Luca Due penalty Inframezzati Dalla rete Di Traorè Secondo cambio Per il Torino Dovrebbe entrare Il numero 16 Luise Al posto Del numero 5 Mele Sedicesimo Del Secondo tempo Via Mele Semaforo Verde Per Il numero 16 Luise Todisco La battuta Della rimessa Laterale C'è l'inversione Però Perché Todisco Ha guadagnato Indebitamente Metri Messa con le mani Per il Torino Gilaudo Per il numero 9 De Luca Che viene accerchiato E fermato Friendland In un secondo tempo Riesce ad impattare Sul pallone De Luca Affrontato Da Todisco Rimessa laterale Per La squadra Granata Pasticcia Il Torino In questa circostanza Però la formazione Granata Aveva la palla Dalena Lancio Di Dalena Al centro Dell'aria Di testa Ha colpito Sgambati Intervento Di Auriletto La palla Per K Invita I suoi A salire L'estremo Difensore Dell'Avellino Che nulla Ha potuto Su due Calci di rigore Del Torino Qui Va da sommarsi La rete Di Traore Fallo Fallo su Rossetti Intanto Calcio di punizione Per La squadra Granata Che si è presentata A Prato La Serra Come terza Forza Del campionato Il Torino Il Torino Siede Sul gradino Più basso Del podio Con 28 punti All'attivo Preceduto Dal Chievo Secondo Con tre Dalla Juventus Con 31 Occhio Occhio A Ravellino Ora Ciotti Entra in aria Ci prova di destra E palla alta La classifica Del Girone B Che ha chiuso Il girone D'andata Juventus in testa Con 31 punti Campione d'inverno Chievo Secondo Con 30 Torino 28 Sassuolo 24 Utilese 22 Empoli 21 Bari 19 Benamento 14 Pescara Cittadella 13 Carpi Provercelli 12 Ascoli 8 Avellino 7 punti Nello scorso turno Di campionato L'ultimo del gioco D'andata L'Avellino E' stato sconfitto In casa del Bari Per Tre reti a zero Il Torino Ha espugnato Il campo Del Cittadella Per Tre reti a uno Si avvicina Il Torino A grandi passi Alla seconda vittoria Consecutiva In trasferta Dopo il blitz In Veneto Altro cambio Esce Arciello Stavolta un po' in ombra Il numero 10 Bianco verde Non ha inciso Come nelle scorse uscite Qui a Prato La Serra Lo posto di Arcirlo E' entrato Il numero 23 Garofalo Il tempo scorre Siamo al ventesimo Del secondo tempo Poverino zero Torino tre La battuta di Idalena Pizzi Riccio Lo scatto Lo scatto del numero 20 Pizzi Chiede palla In o'entrato Garofalo Va giù Pizzi Lascia correre Il direttore di gara Li testa Frende Da quest'altra parte Pronto A ricevere Ciotti Adesso Branchi Ciotti Ancora Branchi Non riesce a lungo Piacciotti Branchi Ritorna sul pallone Alla fine Commette fallo Sul Rossetti Calcio di punizione Piacchia il Torino Il signor Airoldi Dialoga Con uno dei suoi assistenti Prende nota Il Direttore di gara Non ha estratto Nessun cartellino Non sappiamo Probabilmente Ha notato Una sostituzione Batte Frendle Colpisce Sgambati Allontana Todisco Elementa L'azione Per il Torino Tofanari Avanza Tofanari Di collo pieno Di destro Prova a centrare Allo specchio Della porta Palla a lato Tofanari Tra i miglioni In campo A nostro avviso Pronto K Rimettere il pallone In gioco Il destro Del portiere Biancoverde Spizzata Di Riccio Giù si Ancora giù si Il dribbling Del numero 19 Che finisce con allungarsi Il pallone Consentato il recupero degli avversari Prova a rivenire Giusti Sull'avversario Rimessa Per Lavellino Todisco La rimessa Con le mani Stavolta La posizione La posizione Di battuta È giusta Ancora Todisco È impreciso L'esterno destro Biancoverde Parla direttamente In faro laterale Buon per il Torino Che può Guadagnare altri Secondi preziosi L'informazione Ganata Comunque Saldamente In mano In match Atreti di vantaggio Sull'avellino E praticamente Non ha corso Rischi Tofanari In aria Appoggio Per il numero 16 Luise Palla respinta Alla fine K Ad abbrancare Il pallone In sedimento Preciso Di Tofanari Tagliata a fette Alla retroguardia Biancoverde Passaggio Beneficio Di Luise La cui conclusione È stata murata De Luca Fuorigioco Di dentro Calcio di punizione Per l'avellino Discretta presenza Di pubblico Qui a Prato La Serra Chiaro che L'avversario Di prestigio Ha indotto A sfidare Il freddo Di parte L'avellino Con la forza Dell'orgoglio Per Gotto S'attarda Nel passaggio Consentendo Il recupero Dei difensori Piemontesi Giussi De Luca Non riesce La triangolazione Con Berardi Altra rimessa Con le mani A beneficio Dei biancoverdi Di Irpinia Venticinquesimo Sempre 3 a 0 Per il Torino Riccio Lotta Riccio I torinisti Però Recuperano il pallone Da Rossetti A Fiendlieb Giraudo Il sinistro Di Giraudo Spedisce il pallone In favola Laterale Il punto Todisco A battere La rimessa Laterale Fiendlieb Deve guardarsi Con la minaccia Di Ciotti Già battuto La rimessa laterale Il cross Di Todisco Allontana Auriletto Di Testarizzo La sfera è preda Dei torinisti Concede il vantaggio Il direttore di gara Tofanari De Luca Ringa su di lui Per Gotta De Luca Talena Auriletto Fiendlieb Giraudo Rossetti E' libero De Luca Si incarta De Luca Ne approfitta Garofalo Ancora Avellino Todisco Colpisce in qualche modo Di testa E riesce a servire Il compagno Ancora Ciotti Branchi Rizzo Cambio gioco Sgambati Ecco Pizzi Il costeso Di Pizzi La presa Comoda Di Cucchietti Il portiere Torinista Al rilancio Rizzo Dragone Ancora Avellino Palla per Riccio Che è in posizione Di fuori gioco Tutto inutile E' pronto a battere Il calcio Di punizione Cucchietti Temperatura Che continua a calare Non mi nascondiamo Che facciamo fatica A volte A far uscire le parole Tra un direttore di gara Si lega nei pressi Della panchina Avellinista Evidentemente Ha visto qualche presenza Di troppo Viene allontanato Un componente Della panchina Campana A nota Il signor Airoldi Gioco interrotto Il programma Della giornata Prevede Benevento Cittadella Pescara Sassuolo Juventus Surinese Ascoli Bari Provercelli Carpi Chievo Empoli Avellino Torino Il prossimo turno Di campionato L'Avellino Farà visita All'Empoli Il Torino Riceverà In casa Il Chievo Verona Dunque Big match La prossima settimana Per la formazione Di Coppitelli Che affronterà Il Chievo Ora non sappiamo Nel momento in cui Commentiamo questo match Cosa abbia fatto Il Chievo E' chiaro che se il Torino Dovesse vincere Dovesse vincere La partita con il Chievo Balzerebbe Perlomeno al secondo posto Ci dicono che In questo momento Il Chievo Sta soccombendo Con l'Empoli In casa Per una rete a zero E quindi In questo momento Il Torino E' secondo in classifica Perché ci dicono Che anche Che la Juventus Ha vinto la sua partita Dunque la squadra di Grosso I Cugini Bianconeri Restano in testa Della classifica Dunque in questo momento Torino Secondo In classifica Se Dando per scontato Ormai che la formazione Granata Sia vincitrice Qui in Irpinia Se Il Chievo Non riuscirà Ad evitare la sconfitta Con l'Empoli Sarà il Torino Ad affrontare I Clivenzi Avanti in classifica Nel big match Della settimana prossima Palla in area Fallo su Rossetti Che ha rischiato grosso Scenno di reazione Di Rossetti Il direttore di gara Riesce a riportare La situazione Sui binari giusti C'era stato L'acceno di reazione Di Rossetti L'indirizzo Quell'avversario Ha ricevuto Una scarpata In pieno volto Il numero 8 Granata La chiusura Efficace Di Todisco Su Giucci Qualche Toginista in campo Reclamava La concessione Del corner Si riparte Dal fondo La spizzata Di Sgambati Die Die Ancora un pizzico Di tensione In campo Paradossalmente C'è un po' Di nervosismo Sul 3 a 0 Una fase di match Che Praticamente Non ha più nulla da dire Si perde nel nulla L'azione Bianco verde Calcio di punizione Per l'Avellino E' pronto Dragone A battere il calcio Di punizione Ecco il numero 7 Il suo sinistro Palla in piena Aria Se l'è ritrovato Sui piedi Pizzi Sorpreso Il numero 20 Bianco verde Fortunato Cucchietti Non è nemmeno troppo Veloce Il pallone Siamo difensore Granata E' riuscito Ad affegare La sfera Della prima Vera Occasione Per l'Avellino Di questa partita Al minuto numero 32 Della ripresa Scusa di Cioffi Ha avuto l'opportunità Di siglare il gol Della bandiera Di portarsi Sull'1 a 3 Altro calcio Di punizione Sempre Dragone a battere Cambia però Il versante Di battuta Siamo sul lato Di destra Stavolta La difesa Del Torino Che spinge Agevolmente Lo scatto Di Berardi Non lo molla Rizzo Ancora Berardi Sempre Rizzo Su di lui Il dribbling Di Berardi Di destro Ci prova In girata Dieye La sotera Debole Facile La presa Di K Berardi Ha fatto a mattire Rizzo Ancora il Torino Rossetti Giraudo Rossetti Lo scatto Di Ma è vano Perché la palla È uscita Mista laterale Per la squadra Granata Rossetti Friend Lab Friend Lab A un riletto Dalena Giussi Riesce a servire Il numero 16 Luise Ancora Torino Il colpo di tacco Anzi no Non c'era gol Ma non Segnalato Il fuorigioco Il preziosismo Di Dieye Di tacco Aveva Spedito il pallone In porta Ma il gioco Però era fermo Rete annullata La difesa Della sfera Da parte Di Auriletto La rimessa Laterale È In favore Del Torino Altri secondi Che se ne vanno La sfera Che salza Il campanile Rizzo Allontana La rovesciata Di Ecco Luise Scocca il destro Pala ribattuta Adesso Dragone Allontana Luise Calcio De punizione Per Lavellino La battuta Di Perrotta Riceve Il sugo a destra Todisco Avanza Todisco Appoggio Per Ciotti Ancora Ciotti Branchi Va giù Luise Si rialza Il numero 16 Del Torino Il direttore di gara Non ha ritenuto Di intervenire Auriletto Difficoltà Questa circostanza La squadra del Torino Sul pressing Dell'Avellino Per Rotta Esce a crossare Al centro Dove c'è solo Giraudo Giraudo Va a lottare Con Ciotti E' il gol Dell'Avellino Gol Dell'Avellino Ciotti Accorcia le distanze 3 a 1 Per il Torino Ora Quando siamo giunti Al trentaseesimo Del secondo tempo Lavellino Accorcia le distanze Premiata La capabilità Di Ciotti Il lancio Di Dalena Per Berardi Palla irraggiungibile Per il numero 10 Granata Sgambati Messa da tagliare Ancora Biancoverde Lontana Dragone Ecco Cucchietti Invità i suoi A salire Il portiere Del Torino Il lancio Il calciatore Granata E' Cociotti Riccio Dragone Perrotta Riparte Lavellino A caccia di un gol Che riapirebbe Cromocosamente La partita Il cross in aria Fa per avventarsi Sul pallone Il numero 20 Pizzi Con le mani Intervenuto Cucchietti Sette minuti Al novantesimo Più recupero Di testa Pergotta L'appoggio Per K Sul azule di disturbo Portata dal numero 20 Di Aie Rilancio di K Giraudo Ciotti Ciotti non riesce Ad impattare Il pallone Il messa laterale Per il Torino Con le mani Con le mani Giraudo Un impeccabile La sua performance In occasione Del gol Bianco-verde Riparte Lavellino Branchi Todisco Branchi Nuova linfa Per Lavellino Anche se il Torino Può mantare Ancora un discreto Magine di vantaggio Due gol Da recuperare Per la formazione Di Cioffi Quando mancano Cinque minuti Più recupero Al triplice fischio Rilancio di K Allontana Adalena Fuorigioco Di Die Calcio di punizione La formazione Bianco-verde Abbattuta di Dragone Ciotti Occhio alla sua posizione Di Todisco Il cross in area Di Ciotti Palla che è spinta Insiste Ciotti Ancora capi albio Numero 21 Giraudo È fortunato Nel doppio l'impallo Con gli avversari Rimessa dal fondo Per il Torino Avellino prova Secondo altro A riaprirla Prova Secondo altro Ad infondere Un pizzico di sale Al match Tocchietti È pronto A rinviare A lontana Pergotta Tofanari Fallo Su Tofanari Gesso di fair play Con Pizzi Faccio di punizione Per il Torino Freddo Pungente Ripetiamo Qui Qui a A Poetro La Serra La battuta Di Ida Lena Si incarta Un calciatore Bianco-verde Deye Deye Si porta sul fondo La Serra Non perviene Al numero 19 Giucci Ancora Torino Però Intervento in due tempi Di Icappa Sul tiro Di Berardi Todisco Fervento falloso Di Todisco Su Dalena Altro calcio Di punizione Per il Torino Tre minuti Al novantesimo Poi Sarà recupero Dovrebbe essere Corposo Il recupero Assignato Dall'arbitro Provediamo Almeno Quattro Lutti Di recupero Messa Laterale Per la formazione Di casa Seye Lunghe leve Di Seye Luise Tiene palla Luise Gioco di prestigio Di Luise Il destro Del numero 16 Granata La risposta Di Cappa Resta Appreggevole Iniziativa Di Luise Fosse entrata Quella palla Sarebbe stata Davvero Una rete di applausi Per il modo In cui è stata Preparata Per la precisione Cappa però Ha detto di no Ancora Avellino Il sinistro Di Riccio Ha bloccato Cucchietti Conquisizione Centrale 89esimo Lottano Giussi E Branchi Sgambati Aguiletto Pesca Pesca Il numero 10 Berardi Porta palla Berardi Giussi Pasticcia Giussi Che mette in moto Lavellino Ciotti Dragone Di testa Di testa Va a colpire Su secondo palo Gizzo Cucchietti Cucchietti Carofalo Sigle Facci di profeti Ora 3 a 2 Per il Torino Deve stare attento La formazione Di Federico Coppitelli Per non sciupare Quanto costruito Sinora Avellino Aveva già sfiorato Il gol Con Rizzo Cucchietti Aveva compiuto Un prodigio Sul successivo Corner Nulla ha potuto Sull'intervento Sottomisura Di Garofalo Avellino 2 Torino 3 E il match Si è Improvvisamente Rianimato Riacceso La bellezza Del calcio L'imprevedibilità Di questo sport Rossetti Sembrava avviato Comodamente Alla vittoria Il Torino Dovrà soffrire Fino alla fine Per portare a casa L'intera posta Impalio Rossetti Ancora Rossetti Non sarà sete di calciare Appoggio per Berardi Che deve tenere palla Deve evitare la ripartenza E gli avversari C'è comunque rimessa Dal fondo Per L'Avellino Ora c'è apprezzione Tra le fila Del Torino Deve stringere i denti La formazione di Coppitelli Per evitare Un'atroce beffa Fa la scataventa In avanti Lo scatto di Dieye Che è in posizione regolare Si continua a giocare Dieye L'uscita Di K Pulita Regolare Sul pallone Sull'avversario Rimessa con le mani Per L'Avellino Il match Cari telespettatori Si è improvvisamente Riacceso Come dicevamo in precedenza Chi l'avrebbe mai detto Adesso Tutti i tifosi Biancoverde A spingere L'Avellino La clamorosa Rimonta Todisco Riccio Todisco Entra in aria Todisco Rasoterra Va giù Un calciatore Dell'Avellino Le clamano tutti Il rigore Qui in tribuna Direttore di gara Dice di no I calciatori Granata Cerchiano Un calciatore Biancoverde Accusato di fare scena Resta comunque Al tappeto Perrotta Necessario L'intervento Dei sanitari Biancoverdi Intanto Cucchietti Deve tenere a bada Un nervosissimo Luise Siamo in pieno Recupero Gioco ancora Interrotto non vi ripetiamo le frasi proferite all'indirizzo del diritto pericare si rialza per rotta claudicante espulso mister Cioffi e accesso di proteste all'indirizzo dell'arbitro annota il direttore di gara e fuori da rettangolo di gioco per rotta Avellino ora in dieci chiede di rientrare per rotta rilancio di Cucchietti rientra in campo per rotta ristabilita la parità numerica Todisco tipice fischio il sospiro di sollievo del Torino che riesce comunque ad espugnare con qualche affano di troppo nel finale il campo sportivo posto di Prato la Serra per tre reti a due l'Avellino di Cioffi ad un passo dall'impresa ad un passo dal clamoroso pareggio dal campo sportivo posto di Prato la Serra è tutto Avellino due Torino tre Mimmo Scolese al commento Alfonso Iannone alla telecamera a risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV Grazie Grazie